non ne posso più ragazzi non ne posso più non ne posso più Motta non è per te non è per te Tiago Motta con questa sera per me tu sei out out basta 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 non voglio sentire a fine ottobre siamo già fuori della lotta per il campionato con 200 milioni spesi sul mercato ti è mancato Bremer sei andato nella merda sei andato nella merda sei andato perché ti è mancato un giocatore prendiamo gol a grappoli a grappoli sette gol otto gol in tre partite una roba vergognosa una roba vergognosa non riesci a tirare fuori un ragno dal buco neanche tu tu e Allegri in un certo certo punto di vista potete darvi la mano perché non riuscite a trovare le contromisure per le squadre cioè qui non si può pareggiare con l'Empoli pareggiare col Parma pareggiare con la Roma pareggiare col Napoli pareggiare con la puttana di una quella Eva sporca non si può pareggiare con tutti non si può non si può non si può mi dispiace con oggi puttana di una Eva schifosa troia mi fai bestemmiare anche mi fai bestemmiare con oggi per me tu sei auto puoi prenderti baracca e buratini aprire il baglietto e andare fuori dalle palle anche tu andare fuori dalle palle anche tu ma io non lo so non lo so ma siamo veramente e facciamo schifo facciamo schifo al cazzo ragazzi facciamo schifo al cazzo porca di in 45 minuti non sei riuscito a fargli un gol al Parma al Parma al Parma che c'è una squadra una mezza squadra di scappati di casa il Parma l'Empoli va bene l'Empoli è già meglio dici no che poi l'Empoli oggi quegli altri gliene ha dati tre adesso siamo quarti ci ha scavalcato anche il coso anche l'Atalanta poi deve giocare ancora qualcuno alla Fiorentina andremo a finire quinti sesti siamo fuori della lotta del campionato già al primo di novembre perché domani no il 31 ottobre cos'è domani il 31 ottobre è una vergogna una vergogna con 200 milioni spese perché questo qua li hanno fatto un mercato della Madonna questo qua adesso qual è l'obiettivo della Juventus adesso ditemi qual è l'obiettivo della Juventus non mi direte mica la Champions League dopo la figura di merda che abbiamo fatto con lo Stoccarda adesso non vinciamo neanche a Udine mettetevela via che non vinciamo neanche a Udine adesso sarà un patema un patema stile Roma e stile Milan noi i romanisti ai milanisti possiamo darci la mano e andare fanculo tutti e tre perché siamo delle squadre di merda delle squadre di merda con degli allenatori di merda ecco tra Roma Milan e Juventus siamo tre squadre che hanno tre allenatori di merda motta prenditi tutto e vai a fare in culo anche tu ma hai rotto i coglioni ecco non ho ciò da dire nient'altro ragazzi chiudo qua stasera perché veramente c'ho una nera intorno già che non è la giornata oggi tanto più ancora mi pare anche col Parma motta vai a fare in culo ma hai rotto i coglioni ma hai rotto veramente i coglioni